non sei sicuro che vuoi startare uno streaming mi chiede come non devo essere sicura oh mio dio buona notifica perché l'hai di paladins? appunto vado per un test audio vado per un test audio vado per un test audio non lo so eeeh vediamo vado a compartirlo come si gioca a compartirlo? no ci deve essere una polona italiana compartire già compartire allora allora hola chicos hola hola un secondo ragazzi un secondo che come sempre nooo 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 chi c'è? on air alla fine a me poi mi arriva il prossimo martedì buongiorno e buona giornata e questa merda di botte c'è botte c'è ciao a tutti ok adesso andiamo a vedere se adesso è vero non stiamo più dicendo le bugie e cosa? e cosa? non è più like di palabins si si anche a me è un errore siete un bug di youtube eh a volte capita a me non lo dato né a me né al bot che ha dato l'avvio non stiamo a niente allora vedi live for night quando youtube è buggato ma nella notifica c'è scritto paladin tutto questo è deplorevole hai fatto il testadio tu? si tutto questo è deplorevole 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 deploreviamoci so deploreviamoci so deploreviamoci deploreviamoci ok ragazzi giuro non ho fatto la lavi di pazzola te lo prometto non capisco perché non mi... ecco per me non c'è nessuno stasera, troppo tardi no, io avevo questa sensazione non è vero perché per esempio ieri streamavamo fino alle 12 c'era stato gente fino alle 12 tempo di inattività programmata vai what? quindi io mi faccio andare si ragazzi siamo pochi oggi chiudiamo ora la live parlando del re di Napoli non si dice il re di Roma? si dice in italiano o in spagnolo? cosa? quando per esempio parli di una persona e poi quella persona appare così è parlato di lui si ma per dire, che dire, eramo pochi mancava un elemento in spagnolo si dice parlando del re di Roma si non so perché ha deciso di intitolare la live come si ciao Frank ciao Ratti ti odio non lo so non lo so Ratti tu l'hai sentito sei tu che mi stai martellando sta cosa io non mi ricordo io sono vecchio la memoria di merda io tengo la memoria di merda ciao ciao allora in onore del nostro caro amico Flank andiamo tutti a porca pislacco ciao 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 ho le dita che scivolano scivoloso tengo la memoria di merda queste mi sembrano frasi tue ah boh si forse l'ho detto in live ma non ti assicuro niente Ratti ti ripeto una memoria brutta chiedi a chi l'ha detto io non lo so forse era stato io stata io se tu lo chiedi a chi ha detto questa frase può essere? che ti risponda però tutto questo mi sa di gay sai questo questi tuoi interessi mi spaventa Ratti eh oh mio dio stanno arrivando mi piace il gioiepete che mi... si? scivola? giusto? i views ma mille volte perchè loro hanno... sono altri non sono views di loro si perchè ho ricaricato la sigaretta elettronica e quindi mi scivola mi scivola dal dato di youtube direi no lo abbiamo fatto apposta perchè così tutti entravai con più curiosità guarda guarda Gabri non lo sei in serio non sei lo che passa e lo che è passato però come ho visto dal bot del... del... come si chiama? del... del discord del live del... non lo sai che è passato se posso... vado a mirare il disco al bot lo dico è quello che c'è scritto si ma come si dà? fortnite? che forte allora abbiamo ostras mi accade di arrivare un mensaje di Pingu che mi sta mandando un screenshot che mi dice non mi sale per aprire il chat che significa questo? oh mio dio perchè? Pingu non sei che sta passando a chiunque? le passa? bueno, chiaro, non me lo puoi dire se non le sale il chat what the heck? vale teniamo un problema ah, già decides tu che abbiamo un bug cosa mi sai? ehi Dani come on Dani come on Dani come on Dani? come andiamo? hallo Perché le persone dentro non possono parlare con me e le altre persone vedono i paladini nel titolo. Non lo so. Ciao Gabriel, hasta luego. Ma è strana questa cosa. Muy raro. Perché teniamo 1066 di nuovo di iscritti? Se abbiamo iniziato con 1067. Ah si è? Boh. No, no, no. Frank a me mi ha mandato un screen. Ok? Che quando tu stai dentro la live e non c'è chat, non è che... Non c'è la chat. Non c'è chat. Come se non fosse una live, come se fosse un video. Ciao Yuri. Yuri, no. Ciao Creeper. Creeper, devi farmi un favore su Discord, dovresti verificare l'account. Deve riavviare la pagina. Tu dici che è così semplice? E perché è uscito la live di Paladins? Oddio, guarda il bug, guarda il bug. C'è? Wow. Wow, il tecio. Non credo che sia una cosa così semplice come riavviare. Ho questa sensazione. Ma Raddi, dimmi che non è vero eh, che se non mi incazzo. Ah no, anche perché veramente, quello è un danno. Come ti buono che continui ad iscriversi e disiscriversi. Perribile. Come se non l'avesse capito che finchia fa... Cioè ve lo fa apposta. Mmmmm. Ma Frank, non ti legge. Non sta leggendo, non puoi leggere cari e refresh the page. E dai. E se non funziona me lo devi tu a me. Sto per vincere un euro, Ale. Oh mio Dio. Ciao Fergie. Ciao Fergie. Ciao. Ciao Fergie. Ciao Fergie. Ciao. Ciao Fergie. Ciao Fergie. Ciao Fergie. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Mi cazzo ho spacco tutta la casa va. Doc, se vince una fatica ogni live video non è una 250. Che cosa dice? Che pensi che è? Frenco o Fratti? Fratti. Fratti. Non ho detto Fratti già. Ho capito Fratti io. Fratelli. Cosa dovresti? Verificare l'account? Perché per una sicurezza mia, tua, di tutti quelli che sono presenti sul server abbiamo messo le norme di sicurezza più pesanti che ci sono. E questa norma di sicurezza è una fra queste cose è verificare l'account che si collega al nostro discord. Giocate in quattro dopo o giocate così? Eh? Quattro, quattro. Sì. Ragazzi come sempre chi vuole giocare me lo dica. Me lo dica Duca! Ancora non è tornato. Quando torna cazzo quel sardino? Ma ci mancano tre giorni no? Due o tre giorni. Vincenzo ti segno? Ti segno? Ti segno? Ti segno? Ti segno? Ok, ok. Fratti. Ti ho segnato anche. Fratti, ti vuoi giocare? No no perché non c'è necessità cattivale. Se cae l'ordinatore, se soppre calienta con tanto discord mentre si stiamiamo. E questa cosa prima o poi si risolverà, però no. Prima o poi, quando arriva l'inverno no? Può essere anche che sono... Oh cazzo! Coglione! Hanno aggiornato il nuovo Minecraft? Sì? Sì, sì. Coglione, siamo in Italia! Oddio! Oh mio Dio! Hanno ammazzato i coglioni! Dove è andata? Ah, meno male, Saletta. Ma che mi ha ammazzato? Ah, erano due! Qua! Senza l'accetto, coglione! Non mi far sanguinare gli occhi! Ma Dani non c'è più, minchia vero? No! No! Ti ha chiesto se hai combattuto il battle pass? No! No, Dani! No, Dani! Questo è un gioco gratis! Non posso comprare qualcosa in un gioco gratis! Cosa è un gioco gratis! Che hanno messo... Eh, queste sono stronzate! Scusa eh! Ma hanno messo un nuovo mob... Che se non dormi per diverse noti ti viene al suo card! Quello che dovevano... Quello che dovevano... Dovevano mettere? Scusa eh! Però non sa se hanno finito il bug! Quello che lei comportava! Allora... Andiamo con Ratti... Chi c'è Ratti eh? Chi c'è Ratti eh? Vincenzo! Vincenzo come si chiama? Ah, avevo un nome strano, aspetta l'ho detto prima! Larry Fox! Che non ce l'ho io! Devi aggiungerlo, Vincenzo! Ah no, Big Elliot! Ma scusa, perché mi hai detto quando sei entrato? Sono... Questo Fox! Raga, Larry Fox sono io! Vincenzo! 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 Allora... I'm not afraid of your dislike it's your problem if you dislike me and my transmission it's not my problem ragazzi perché non l'ho insultato un pochettino in inglese però così capisce ciao Matteo Vincenzo c'è c'è la lì c'è serviamo una lista get alive yeah but then you should tell you should tell epic games not us we're just doing we follow the mass that's what we do but it's not my problem you can do what you want and so next next match next match mettete pronto Flavia la pasta pronta chi mi dà una medaglia me la dai a meno i nostri dobbiamo dare un nome all'opposto del condimento di pasta ma lo sai qual è il problema Matteo? è che lavorando fino a tardi in questi giorni ci viene praticamente impossibile fare le live prima quando non lavoravamo fidati che stavamo sempre attaccati qui quando lavoriamo succede questo il sabato e la domenica le live sono prima e tutta la coincidenza come se tua mamma e tuo papà devono fare qualcosa prima ma gli viene negato da dal lavoro, cucina, questo, l'altro tu non devi vederci come due ragazzini devi vederci come due persone che lavorano hanno una casa da mantenere e tutte ste minchiate perciò però credimi che quando avevamo il tempo siamo sempre stati attivi eh ma cazzo perché? che bello ho trovato tutte cartucce adesso esco fuori e li lancio le cartucce con le mani PEM! faccio PEM! PEM! Doc lancia... come si dice? lancia munizione a veloce luce veloce luce come cazzo parla? luce veloce luce oggi ho parlato tutto il giorno guarda a velocità della luce cosa voleva dire? ragazzi a breve non mi sentirete più parlare italiano lo disimparerò tutto il like se me aveva olvidato buona memoria buona memoria a tutti così le gusta ma, ma, ma si sto solo non ho tempo di lezioni ratti ho già un cupo delle lezioni fatte nella vita compiuto non hai detto un cazzo è sparato lettere così basta che aggiungevi anche la parola cappuccino punto e virgola quello che volevo dire è che ho fatto sufficiente lezioni lingue nella vita non ci può far niente oh cazzo quello fa paura dai dai ma quanti cazzo erano lì veramente ciao franci ragazzi io tu ero ammazzati a questo non l'aveva sentito perché devi capire che quando arriviamo a casa da scuola che non andiamo a scuola andiamo a lavorare dobbiamo pensare alla casa a fare la spesa a cucinare a lavare piatti e poi logicamente possiamo fare le live capito se avessimo tutti una fortuna che si chiama famiglia in casa la live la faremo a qualsiasi ora che sia presto questa è la verità manca un pappagallo e c'è anche un pappagallo che rompe i coglioni quando finisce le mail e devi andargli anche a comprare tra le altre cose allora dimmi chi c'è già e poi franci giusto si è scritto franci giochi ok enzo mafio italiana non posso giocare enzo si franci franci ti detto che non può giocare e poi chi è l'altro ratte e il suo ruolo che è perfetto no 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 tranquilli potete giocare quanto volete hola jose muchas gracias hola jose ok non andavamo neanche capito io invito tutti raga chi arriva primo me li alloggia il criceto dorme in modo strano ma tutti lo volete morto sto cazzo di criceto è vero eh lasciate il criceto in pace che ragazzi veramente lasciatelo tranquillo oppure salva schiaccialo fai prima ma tu sei molto crudele e cazzo miglia tu ti ho quanto è arrivato l'altro giorno il criceto di sera è morto poi adesso la madre entra il criceto dorme in maniera strana forse è morto c'è una contraddizione dorme in maniera strana forse è morto ma sappiamo che era una sua vita eterna però con una paletta una paletta quelle per raccogliere tizioni del fuoco per i bambini minchia anche la sensibilità tua madre è proprio la mente peggio della mia con uno zoccolo di legno minchia durato cosa prima o poi è ma quello è brutto di comprare gli animali avere animali raga tranne quando ti compri un pappagallo ma anche il pappagallo ma anche ti fa capire che sta morendo semplicemente un giorno morirà muore durante il sonno perché per la sua naturalezza non possono fare vedere ai nemici vero che sono deboli per quello non vedi assolutamente nessun segno di malattia fino alla fine muore diretto non vedi così bello il giorno sarà caduto io lo faccio fritto non mi frega un cazzo ma scherzi con quello che è costato quella merda grigia lì come minimo non sto parlando di te sto parlando di vicino vai con il grigio adesso mi so di mangiare e beh cosa vuol dire cinque ore ci fai il brodo o ci fai una bella salsa di pomodori col criceto che butti ratti forse mi prende la play 4 gne 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 così possiamo giocare come fratellini ratti come dio leggenda ha fatto uno scherzo che è troppo bello devo leggere leggendo un po fa schiazza è bellissimo perché frank le ha detto a lucky long time no si lucky e dice leggenze si è bagato la si è bagato frank non ha la chiave inglese Oh mio Dio Che bel scherzo Ai Ai Despacito Ai Oh mio Dio Guardate mi compro la play per giocare con te Gni 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 Ma basta Ti ho conosciuto e eri un moderatore Tutto di un pezzo Dai Ha leccato la cartuccia Lo sapevo io Oh mio Dio Compliano di Lacchi presto In 4 giorni Mi sembra che l'ho già compito 63 volte Gli anni Mi ricordo della fine mia vita Il Compliano di Lacchi Ciao Francesco Francesco C Francesco C Ciao Francesco C Un criceto 3 euro Un criceto 3 euro 3 euro Ho aperto Cricetti al forno 2 euro e 50 Criceto vivo 3 euro Oggi questa live è macabra ragazzi Dobbiamo comprare i criceti anche noi Sai come gli stacca la testa cocco al criceto Si mette lì con molta calma Come gli spaghetti Crin 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 Finchè non gliela toglie Macabra Macabra loca Ragazzi io posso fare l'infermiere Con quante bende ho Inchiaratti sei già morto L'emozione di giocare con Frank Questa è la casa più vuota Che abbia mai visto In tutta la storia Chi è che sta sparando con un disgraziato? Ai Ai Scusa Mi viene così Dall'improvviso Porcio Grande latti Il porcio Non è una bestemmia quello Così si fa Il porcio è Ma mi hanno sparato Si è andato in una casa Dai dai Frank Vieni Entra e poi scrivi Così ti levo il ruolo da mod Perché veramente Ormai Sai te Cosa? Perché hai nato in una biblioteca E c'è Come il disperato un uno Se l'ha trovato Una biblioteca Ma lui Sì Ma è già sorprendente Che forma parte del patrimonio Literario nazionale Cazzo Cazzo Potrei farlo cento volte Mi piace troppo Guarda Arrivi qui Lo fai così Ai Chi Il hay L'ai Levo un rato Esperandote Hai Deja l'intestino che io vuoi No cago despacito Ti stanno offrendo un patto qua Ma so già cosa vai a dire Ti stanno offrendo 20 euro Ti offro un patto Tu li prendi a mod Metti me E Vicino Che vuol dire Ok Ci metto 20 euro Per 20 euro adesso Ti toglierai anche un dente con le mani Così a mani nude Ti dico solo quello Ma basta anche 15 No non mi sparare Sono youtuber io No proprio no Dove Iscritto ricambi Aspetta un secondo Aspetta 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 Quanti iscritti mi porti Fammi capire Più o meno Di 30 No io Non posso aspettare D'alcunità 15 persone Abbiamo pensato La stessa cosa Minchia 37 persone E mia testa ha detto 31 Madonna mia Ma veramente Ma ti sembriamo Una community Una community Di iscritti ricambi Saranno abituati Che anche i canali Villa Fanno questo Sicuramente Furla Rispondimi Cazzo Sicuramente Quando ho già visto Che Cioè tu sei entrato Tu sei entrato Dicendo Iscritto Ricambi Ti sembra uno Che fa iscritti ricambi Finché adesso Adesso le sguinzaglio Il mod Addosso Te lo giuro Fallo con legge Di iscritti ricambi Che lui fa iscritti E' la sua zia Si ma mai Quella di Legend Alveri Oh Fantasmino Iurino Mi è caduto Sulle palle Proprio Fate uscire I mod Il mod Vabbò Abbiamo capito Che Che Questa persona Fortnite TV Furla Mannaggia a te Mannaggia Ci sei Posso giocare Posso giocare Posso giocare Posso giocare Puoi giocare Ti ho segnato Azzano 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 Mordere Dov'è Omar Si Ma perché Non leggo gli uomini Viro Omar Perché la confondi con Saletta Te l'ho già detto Ascolta Omar Devi toglierti Sto avatar Sto avatar Mi ricordo Uno che aveva Saletta prima Ogni volta che scrivi Omar Cerco Quel avatar rosso Viro mare quanto è bello Spiro tanti sentimenti Fatta morire In coppa mia Aia Viro mare mamma mia Eccoci cocco Chiaro Io ti faccio con il Oh Yolo Ciao bello Ciao Iscritto ricambi La prossima volta Che vuoi con un'altra Così Mi inizio a ridere Così Sai Senza fermarmi Io penso Di questa gente Che fa queste cose E che non ha analizzato Mai youtube Correttamente Perché cosa fanno Questa gente Aspetta Ratti Ratti Sai che cos'è E che adesso Come adesso Te l'ho detto Il Ciao Federico Tanto questo anche ieri È entrato Ciao gente Poi non ha più parlato Per tutta la chat Perciò Salutate Federico Per favore Ciao Ratti Io te l'ho detto Prima dei mille Si forma la comunità La community Si forma prima dei mille Quindi Prima dei mille Bisogna fare le cose bene Dopo dei mille Accettiamo E come vedi Se ti dà fastidio Lo puoi insultare Puoi fare cosa vuoi Tanto è casa tua Già Ma no Io sono Ma non sarà Quel Fausto Di bia Ah no Con una furla Scusa Federico Iscritti Ricambi No Basta Lui è lui Fausto Faustino Ma tanti si chiamava furla No Ieri Fausto È entrato Un Fausto Mi ricordo Questo Ciao gente Una cosa del genere Fausto Fausto è il nome Del padre Del mio miglior amico Bello come nome Mi piace Fausto Fausto Coppi C'era anche Grande ciclista Perché ti ricordate Fausto Enzo Guardare Enzo giocare Ma ha rotto un po' il cazzo Enzo You're the only one alive Certo Come animale sono un pipistrello Di nome Sion Eh ma io non l'ho visto Quel Quel come si chiama Quel manca Manca o cazzo Dovete guardare Le live Cioè dovete guardare I video di Di Yuri ragazzi Perché veramente Io amo Yuri Quindi Chi c'è dopo Chi c'era Allora Da qualora non ho gioco C'è Franci Ita Francesco C E qual è Francesco C Franci C Non mi ricordo i nomi Non c'è Uno si chiamava Francesco Switch Se non sbaglio Ma non c'è No Ratti vuole giocare Dopo Adesso Eh perché non c'è nessuno Invito Ratti Il legge Di più veloce entra Io non ho ossigeno Ah ah Ma quanto cazzo Sono Igo di Ehi ehi Io io Non l'ho giusto È rimasto afficcicato Io non lo muovo Eh ci mette un po' Cambiare le immagini Ma ti ringraziamo Così ti riconosciamo Di nuovo iPod iPod Ti scrivo Eh Ragazzi ma Sto cazzo di like L'avete messo o no Cioè io lo chiedo così È in simpatia Non vorrei venire lì E tagliarvi i pollici A tutti quanti In simpatia Aiuto Yeah yeah Infatti qualsiasi persona Mi potrebbe dire No E ci crederei Ma di te proprio Te sei stato Il primo Neanche se è entrato Che hai messo il like Yolo del tuo like Non me ne faccio niente È meglio Un giorno da pecora Che un like Di Yolo Questo è il nuovo detto È meno un giorno da leoni Che cento da pecora Si dice normalmente No? Oggi ti odio eh Yolo Veramente ti odio oggi Oggi spero che fai una live Tu o un diretto Tu ti faccio mettere 50 dislike Uno dietro l'altro Frank diventa sempre più Fai una live Ti metto 367 dislike E ti mando anche un panettone avariato a casa Eccolo Fausto Eccolo fausto Bentornato Bello Ci sei mancato Finalmente Una notte Una notte Legge Eccolo di leggenda Stream stream Scusa Scusa eh Stavo per caso guardando Aspetta che adesso lo guardo No Troppo tardi Stavo guardando la gente che moriva Ah no Sono una cogliona Ma che cosa cazzo sta succedendo? Questo è il cretino di ratti Lo so già Si ballando un po' Carmene Pandoro Hola Pandoro Dos partidas Si puede Hola Alfonso Oh E' il viejo Alfonso Non c'ha la L ragazzi Si chiama Alfonso No Alfonso Tutti li abbiamo chiamato Alfonso Povero ragazzo E vabbè ma noi lo stiamo già trasformando in italiano Ma forse nel suo video ma esiste il nome Alfonso No no Come sei cagato addosso Guardate doc e gioca quello che capita Quello che ha voglia lo gioca Non c'ha un Domani cosa giochi? Minchia non so neanche se mi alzerò domani mattina va a letto Domani ci può essere un pochettino di Splatoon Un'apocalisse mondiale Un'apocalisse gioiosa No ma c'è 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 Questa è la domanda Io sto aspettando un gioco che si chiama Crazy Justice Che prima o poi uscirà Quando uscirà Crazy Justice non cagherò più nessun altro gioco mi sa Se è una merda invece chiedo il refund in 30 secondi E basta E vengo la Switch Cloud Cloud Ciao bello 30 euro 30 Hi Jeriel Jeriel Io non riesco a dirlo Jeriel Andiamo nel vento Io già lo vedo un attimo in Canella Live Di Frank che fa il moderatore Sarete che sei andata che non gli sanguina negli occhi Leggendo quella cosa che ho letto adesso io Vase in Spagna e d'onde? Ehi ehi Io io Ma quanto cazzo sono ego di Oddio Siamo andata saletta e nessuno l'ha salutata Come sei andata saletta? Ti lo giuro Io dico ma è tanto che non scrive Adesso hai fatto un scroll Sto dormitando Ciao ciao Dati per salutata Guarda che due Ratti e Legend Veramente I coglioni non vanno da soli Sono sempre in due A me piacerebbe sapere due franci Eccolo lì che saltella come uno stambecco Guarda che si divertono Veramente Sono bellissimi We're fine Jerry I hope you too If you want to play Just let us know Let us know Let us know Let us know Las onze e in media sono aquí chicos Dica duca Dica duca Dica duca Cioè sei mancato Ma veramente Sì cocco duca Sì J'aime Apelle Vide Tune Amor Dai prendete qui Ragazzi Mamma mia Luca è tornato con un stato di animo positivo Troppo luck Non ho sentito un cavolo Ho pure la febbre Guarda non lo so Francesco non lo so Devo vedere come sarà sto Pokémon E non so neanche se vivo Fino ai Pokémon nuovi Perciò Non posso assicurarti niente Ma la mia domanda è Ma dove cazzo sono tutti i giocatori? Eh? Non lo so Non abbiamo tornato nessuno Siamo ancora vivi perché non c'è nessuno Pokémon nove Ciao Leonora Lele Sei tanto in ritardo che Saretta è già andata a dormire Questo è solo ti posso dire L'ha chiesto lei Tutto questo è sconcertante Non è un gioco dove dobbiamo solo correre Saltare con i carrelli E' vero? C'è qualcosa da fare in questo gioco? C'è una mamma passana Mi sa che qua c'è veramente stata la Capocalisse Ci sono andati tutti Sì da solo Con i tuoi compagni Non ti troverai nessun nemico Il primo che mi trovo Mi ammazzo con un colpo Vedrai Perché ho corso troppo Infatti Sì Nessuno l'ha salutata Povera Neanche Frank se l'ha corto Non siamo noi Avevamo le scuse Questo è Frank Visto come viene smascherato Sto buffone Non ha salutato neanche A Sara Vergognati Grazie ragazzi Per condividere la live Questo sembrava benissimo Hello bot Bot Entra dicendo Hello Frank Hello boss Hello bot Vi la vie Je ne m'envole Voi desi rêvons La 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 Vien rose Ma quanto ce lo dobbiamo tenere questo? Questa è la domanda di Frank Ho letto Quindi che non vi stancate Ma no Poi alla fine è bravo Dai Bravi ragazzi Nei brutti quartieri Sto cazzo Sto cazzo Il second boss sarebbe io Sicuramente Ma non mi è chiamato così Ma perché? Ce lo siamo chiesti anche noi Sto cazzo Abbassi un po' per favore Che tra un po' Mi cambia Ah ma sai perché no? Allora ti farebbe la lone nella partita Francesco un attimo Adesso che finisce la partita Si rifà E puoi giocare C'è una lista da seguire Non è Francesco? Porca puttana Come dice Lino Benfi Allora Chi c'è adesso? Francesco C Omar Pandoru Francesco Switch Omar O Pandoru E Ratti la seguente Allora Per la seguente Chi vuol giocare? Me l'ha detto Ratti Me l'ha detto all'inizio Già Buonanotte Iurino No Nella seguente Ci deve essere Il Dream Team Si Ratti Io Frank Legend E Ratti Infatti Serebbe quello Che non vedi Giocare Da tanto Buonanotte Iuri Anche da me Porca di quella buttena Mi avete preso per un coglione No sei un eroe Mi avete preso per un coglione No sei un eroe No no Mi avete preso per un coglione Oh mi toccare Sincerità totale Abbiamo guadagnato Un milione di euro Oggi Ma non sappiamo Che cazzo è successo Il matchmaking Saluta Duca Perché mi sa che Prima non c'è sentito niente In assoluto Ok Ora funziona Ciao Gabriele Benvenuto nella nostra community Ci sei mancato tanto Dica Duca Tu sei guarda Una spalla perfetta Per un ictus Buona Dai Lascia sta cosa Che ce la stai dando in mano Allora Come stai Tuchino So Bravi ragazzi Nei brutti quartieri Pandoruca Spese una 17 euro Dai andiamo a morire Tutti a pinnacoli Ragazzi Si va a morire A pinnacoli Ora Luca ma in Sardegna Il fuso orario Come in Europa Facciamo le domande Stupide noi Dai Che ora sono in Sardegna Strano Di solito Quando arrivo qua C'è sempre una persona Che atterra con me E mi ammazza E' un po' di caldo Ce l'ho presente E l'altro Non manca mai In quel posto Anche E risponde pure Qua camminano come le capre Hai sentito Quando vai a pinnacoli pendenti E non c'è un cazzo Ti è mai capitato Loli C'era Loli online Franchi ti segno di nuovo Franchi ti Pongi ti Tutti morti I miei compagni Ma che cazzo è sto rumore C'è un po' di caldo Pinnacoli Perché io sono l'unica persona Che non riesce a capire Da dove arrivano i colpi Ogni volta Perché Non fa nessun senso No Vole la verità Secondo me Perché non lo giochi Con le cuffie Non sobra mai Che meme potrebbe essere Dove appare Dai ma due cose Gli ho sparato in bocca Madonnina Total Ciappo Ciaomino Allora adesso Ti tocca Ti tocca Tu Omar Franci No Tu Frank Legend Poi Se volete Franci Omar E si ricomincia poi Se non c'è nessuno Sì sì infatti Allora Io Legend Frank Squid Che nome di merda Mamma mia Che nome di merda Che tiene questo ragazzo Hola Gabriel Ti apunto Ti a capo Ti a punto e a capo Federico saluta Fausto Ci vediamo sicuramente domani Spero presto Domani che giorno è? Giovedì E si Pandoru si puoi Volver a jugar Io Apunto E se non si continua Bot Non si è Non mi ha detto Non mi ha detto Giocare Bot You can play With me Dobbiamo ricordarci Che questa persona Non parla un cazzo L'ingua I want to play O play Si scrive Si sa o dire Tutto il mondo Io lo segno Halloween Scrive bot Luigi Yes bot Later Next Match Next match Milo Vale Mi sa che il second boss E' Fren Non ero io Che tristezza Meno male Meno responsabilità Ciao Francesco Perché non vedo Perché non vedo Dove hanno messo il coso Ah Allora sono saltati Perfetto La cagarella Vi deve venire A tutti e tre Pezzi di Cartuccia leccata Abbiamo le Zanzare Quante le vuoi? Un chilo di zanzare E la Banco 7 Adesso guarda Adesso arriva Qualche ricchione Qua Ciao Minchia Ho fatto un discorso Ciao Che è stato bellissimo Mi dà dei malsoni Perché vuole No È una persona intelligente Alla fine Non è un coglione Guarda Frank dice sempre Giochiamo 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 È il primo che muore È una Dilusione Sto ragazzo Ah no Aspetta C'è anche l'attia Stanno andando Mano a mano Perché Dici Quello che La persona Quanto Faccio leggere Sì Ma io non dubbio Che siamo Una persona Estrematamente Intelligente Ma Sono pericolosi Questi Mi YouTube Oddio Propriate Lo schermo Adesso Madonna Trosta Tasta Veramente Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché Ma ready for win What about We are dying All together Like a A monkey In a laboratorio No Gabri Io non l'ho Visto Ah cioè Le macchine Non possono guidare Ma sì C'è un'allarma No Chiazze Chiaros Chiazzo Bravi ragazzi Mela partita Veramente Abbiamo fatto Veramente Schifo Peggio Mi dovresti dare Un fazzoletto Qualcosa Perché Dopo aver mangiato Le patate Al forno Fazzoletto E alcol Allora Come cazzo Si chiama Quei ragazzoli Ragazzoli Maggi E uno Poi chi c'era Allora Allora Bot Si poi Ha chiesto Di nuovo Franci E poi Pandorula Ha chiesto E Omar Non so Bene bene Chi Dei due Prima Le ultime E Gabriele E Gabriele Oh si Al final si Vai bossa Mi eh Si 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 Pandorula Una seconda Ti tocca Chi è Chi è Chi è Sassi Ratti Ma Questo Bu Bu Era la leve che è caduta O Frank che è entrato Non lo so Non lo so Mi ha fatto ridere Prank Perfetto Perfetto Chi ce l'ha Ti devo dare un schiaffo Mi stanno dicendo Stai zitta Me l'hanno chiesto Perfavore Maschilismo No non è maschilismo E dittatore E stai zitta Pure tu Ascolta Ascolta Vuoi che dico a Ratti Cosa hai detto L'altra sera C'è anche Gli screenshot Ma attenzione Screenshot Tranquillo Cos'è Che mi parto Si Tiri il vino Tiri tu Tiri il vino Tiri il vino Tiri Per terra Che poi Io non capisco Perché scrive Quante volte Devo dirtelo Gruppo Si è disconnesso Ma quante volte Devi dirmi cosa Lì lì Qualsiasi cosa Esca Quante volte Devo dirtelo Ma che cazzo vuoi Ma che cazzo sei Prostata Jones Minchia Vero Frank Mi fa morire A Duca Ti scrivo Per la prossima Che gioca Poi al fine Perché Solo per organizzarmi Franci Bot Tu e Doc Io so come toglierlo E Duca Tranquillo Che giochiamo ancora La prossima Segna Duca Sì infatti Sono già segnato Solo te 3 euro Duca Ah al fine Franci di nuovo Cioè Quello che ho limitato Ah no sì sì è vero Franci Ah ma il nono Pandoro Adesso invece De Omar Ok No 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 Tutto giustissimo Segno Omar Per la seguente E Romare Quanto è bello Gioca a forno Il sentimento Durerà un pochito Gabri Per Per acchitarmi un pochito Il Il dia Della spalda Irmi a dormire Un pochito Tranquillo No 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 Dotto È veloce Giusto Eh Diciamo che Non si può fare Un stream Con qualsiasi internet È una cosa divertente Perché poi Sembra che Youtube Anche ti penalizza Quando No Non so Ma cosa stai dicendo Per favore Cioè Perdiamo A volte Sono scrittori Che facciamo una live Quando non si chiude la live Bene Ah sì Per me è questo penalizzare Non ce ne lo posso dare Altro nome Ah Non c'è un cazzo Qua sopra Abbiamo trovato un cazzo Lagga un pochettino Con un miliardo di euro al giorno Non leggi la seguente No la seguente è già Occupata Occupato 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 Io non so Se sei un cesso O no Ma ti trovo Sempre Qua Occupato Bella quella canzone A me piace troppo Dove anche un letto in più Avete anche un letto in più Io che non ho capito un cazzo Sai Frank Ho detto Ho trovato anche un letto in più Ah Ragazzi Dì una nuova voce Frank Che non si capisce più Dovresti Leggere un letto in più Milo Avete anche un letto in più? Certo C'è un divano letto E abbiamo anche C'è 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 No no Fa bene Informarsi 40 euro a notte Puoi venire a dormire qui Milo Tranquillo Vai a dormire Fausto Fausto sei n'andato e non ritorna più E il treno delle sedali Fausto non sei n'andato e non ritorna più Così non è la canzone giusta Chi è già morto Franci Ma come minchia sei morto Franci Niente sconti Un rato si che streamas No Un Tu Chiaro Si Osea Mica che sono passate Un giornata di merda Si Infatti No Es che Hemos empezato tardi Occhi Osea Non sei Chi ha detto Io che era Gabri No Si Gabri si Questa Si Si Questa 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 Io mi servo Un'acqua Tu ti bevi Un tuo bicchiere E' chiaro E più ne metti Più ne bevo Per sempre Un bicchiere Calmi Di te E' un cuore Di metallo Senza L'anima Dal freddo Del mattino Grigio Di città A scuola Il banco E' vuoto E Frank E' dentro Me Cazzo Ho mangiato I peperoni Per quello Frank E' dentro Me Dai Ma che cazzo Non dire Non dire le parolacce Non dire le parolacce I moderatori Di questa Live Non dicono le parolacce Non diventeremo mai Come ciccio Gamer Grazie a te Aveva Wow Ciao Fausto Adesso si davvero Fausto Survival Fausto Vai di più Ah vale vale Ragazzi ma Tipo quanto Vengono pagate Le scorreggie In diretta E' vero Quanto è andate Per una scorreggia Di doc Perché io ne ho appena Fatta una Non si è sentita L'ho fatta silenziosa Però per 1 euro e 50 Potrei fare una scorreggia Sul microfono E far parlare Jessica Direttamente Subito dopo la scorreggia Attaccata al microfono Frank le scorreggie Le ha gratuite Sì Frank Eh va bene Ma quando è triste Quando è triste Devi fargli le scorreggie Sul microfono Frank Quando è triste No no Legend 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 Bravo A scuola Il banco è vuoto E legend Entra il man Non me lo prende Hai capito? Quello io avevo attivato Quella volta Di prendere cose Automaticamente Così passi sopra E bassa Minchia Stealth Elf Di Skylander L'ho trovato Oggi al mercatino Stealth Elf Sai? Giusto? Oggi ho trovato Stealth Elf Al mercatino Per te? Date una medaglia A questo ragazzo Cazzo Cazzo Io dovevo chiamare Adangelo È vero Ti san Ti san Ti san Ti san Sei meglio Della Mario Ti san Ti san Ti san Ma chissà Oh mio dio Ragazzi Dobbiamo andare a Bordo Bislacco Tutti a Bordo Bislacco Pandoru Miniboss Adesso sarai Il miniboss Ah Ecco perché Non riesco a vincere Nessuno a battere Royale Perché Giuseppe Guarda verso Il boss Cos'è? Giuseppe What the How are you Ti san Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning For you Adesso non c'è questa canzone Sì 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 È un liquore È un liquore Come? Ma sono correnti no? Le cartucce Game Boy Advance Le ho ritornate oggi anche Esatto Aspetta Magari non sto capendo Ma io vado Ai mercatini Raramente E trovassi Che tempo per valere Trovassi Una cartuccia Di Game Boy Advance Sono pieno Chi l'ha chiesto? Legend Sì Lo sapevi Minchia Questi verbi alla legend Sono i verbi Legendari De chiamare Mi fai dubitare Di chiamare Legend Guarda Quando tornero in Italia Ti vendo tutti i giochi che vuoi Del Game Boy Advance Ne avrò tipo Boah 150 da vendere Più o meno Perché sta giocando Ratti E io sto guardando Lo schermo E che la tua domanda Non ha senso Guardi Spiegati È ambigua È tutto Nella vita Negenzi Provee I Ti sani Sani Szani Sani 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 se la vuoi fare questa lavanda con io poi è un provincio Gabri finchia Gabri si lava mangia in continuazione si lava come fanno l'ippopotami Gabri ma cos'hai? che tienes? dite doc sono pulita si ma troppo si sta togliendo la pelle a forse di farse cose dite doc solo te ducasite i gomes che eres? non puoi tradutti eres un ippopotamo vabbè mia madre di ippopotamo è un animale bellissimo sono pericolosissimi più che altro ci sono più leoni che muoiono per ippopotami che uomini che muoiono per leoni ma sono gli animali più aggressivi ma non scherzare ma non metterti mai in mezzo alle palle un ippopotamo è come il rinoceronte ma forse ancora più veloce è semplice come si è più veloce mamma mia questa è un'altra partita dove lascio il controller qui e aspetto che mi spari no? aspetta lo passa nessuno minchia guarda il centro dove ho messo la stellina io lo sai? cos'è quello che lo chiede ti sono? eh? cos'è quello che lo chiede ti sono? cosa vuol dire dimmi? non lo so gameboy advanced ah gba mi sento ignorante yeah they were talking about that yeah legend peccato che adesso abito lontano da te perché ho come giochi in vendita per il gameboy advanced zelda, force world, mario world 2, wario 4, micromachine e gta come se vengo facciamo mi offrono c'è no? 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 Nessuno dei tuoi libri, mi devo diludere Facciamogli regalino a quelli, oh ma da dove, ma da dove, dappertutto Obunque Ma baffanculo vai Nooo, il mio cellulare doc Cos'è l'improvviso? No, perché ieri mi diceva che aveva sentito qualcuno che gli ha detto qualcosa E allora io gli ho detto, guarda io non ti posso dire niente, però ti posso dare tre opzioni E gli ho scritto le tre opzioni Come lo senti? Sì Ah, la faccio con cazzo, che buona sta qua Oh scusami Legend, buonanotte Buonanotte Legend, salutami per favore Ciao coglioni Perché secondo Mito un napoletano deve sempre parlare in dialetto No No Io conosco napoletani ignoranti che non sanno parlare in dialetto Citazione Frank Zucca Allora, Duca Chi c'è? Duca Ammok Ducetto Duca, Omar e il resto la tua lezione Omar Ammukla 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 Madonna, Duca deve sfoggiare le sue tenute Guarda Omar che balli gay che fa Guarda, lo ti tiri, ti tiri Ti tiri Guarda come fa un uomo Omar Basta Si ferma qui senza pagare Guarda Duca Cioè i balli senza pene sono questi E quello? Guarda gli uomini come fanno eh Anche Omar eh Ha pure l'arcobaleno Omar Guarda Questo è un ballone che è bellissimo Guarda, lo guarda Troppo ragazzi Solo Frank e Doc sono fermi lì Vai Luca, vai, vai No, ma veramente quello di Omar non mi sembra più ancora Guarda Si, è sproporzionato No, è impossibile ragazzi Guarda, guarda questo Guarda questo Lì immagina di due tette che ballano No, ma sono femmine Sono tutte donne, si vede Perché per fare questi movimenti Mettere una persona a ballare con dei sensori No? Che poi trasformano in una cosa digitale Questo? Erano donne, non erano uomini Abbiamo due dislike? Sì Ma come due? Perché sì Adesso è tu che sei messo la femmina Ora ha senso Però vedere Omar che fa lo zompetto Questo non lo so, sai? Quale è M-M-B-N-T-S-A-N? Mamma, mamma, bucchini mamma Mamma, mamma In il prossimo ruolo Questo è un ballo da uomo, il mio Zero euro Eh, grazie Grazie Guarda, Luca, guarda Minchia, Duca e Omar 700 euro di Fortnite C'è lì Duca, duca, fai quel pallo Ti prego Ho l'ho mo Ho l'ho mo Ho l'ho mo Che dura di più No 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 sta No, Duca, perché sei lontano No Ma fai Dove ci lanciamo? Ma perché si possono fare anche i video da PS4? Silenzio Vai, non parlate di merdate nella mia live, per favore Yeah, but we play later Tranquilo Isto calme State calme State calme Calamago forever Oh, Calamago Buongiorno Perché adesso è già giorno Ciao, bello Ratti forever Are you ready? For the next Out of the time Lagga un pochettino, gioco di merda Gianna forever Il mio cecchino Oh mio Dio, Leonora è ancora qua Oddio, ragazzi Parlavamo di cose brutte C'era Leonora E Leonora non ero io che parlava Era Jess Era Jess È capace a fare la mia voce troppo bene, vero? Sembravo io No, no, no No, no, te lo giuro Luca Ciao Come tu che è morto? Ha speso 600 euro di skin È già morto Oh mio Dio Dai Puoi rispondere tu? A chi? Aspetta che ti diverti Ciao Fai vedere lo shop? E fu così Che questo ragazzo uscì Lo shop Vuol vedere quelle cose che ho comprato? Ragazzi questo è un gioco gratuito Cosa aspettate? Oh mio Dio Dove si sarà risale Lo scullettarlo male Due tronette sulla macchina Vai scimmietta Muvi il tuo culetto Ci stanno sparando C'è pure il circuito qua Per usare Ma ti deve andare La patente? No guarda Non ho capito Fai vedere il negozio Allora devi andare su Wallapop O su ebay E ritrovi il mio negozio Eh Omar Ma è frantagato o cazzo? Ci vediamo a Borgobislazzo No comunque io non Io faccio parte dei non shoppanti Siamo quel gruppo che riteniamo che Fortnite si fa già troppi soldi Con quelli che shoppano Perciò non diamo i nostri soldi Perché è un gioco gratis E tale va preso E poi sono grosso Sì Ma non sono ciccio gamer Cosa vuoi fare da grande Bel bambino? Ciccio gamer Ma sì è solo per vedere lo shopp Voglio dire È un gioco gratuito Se lo può scampare No vi faccio vedere Lo shop dopo Che ti fa vedere Quello che si vende Cioè ancora non hai capito Scusa lei Non è Oltre ad essere stupida Eppure tedesca Quindi non capisce Lo shopp delle cose Che io ho comprato No perché Marco ha detto No No dog la shop vuole vedere Cosa c'è oggi in vendita E l'ha confermato Per quello dico Sì Scusa lei Oltre ad essere stupida È anche tedesca Vuole vedere cosa ho comprato Te lo dico io Perché tutti sono abituati Che Gli youtuber con 10 milioni di iscritti Come me Hai capito Comprano Sì c'è un pack In youtube Manca un zero Un zero Sì Scusa Oltre ad essere stupida Tedesca È anche numero alfabeta Perché non so come si dica Guarda quei ricchi nazi Dove sono andati Vai Balla Omar Ma mi hanno lasciato qui Ma veramente La cacarelle Deve venire a tutte e due Adesso arriva Arriva il primo Però ragazzi No vabbè No vabbè Calamaco Ascoltami Il giorno che avrai il diritto Di contraddire le mie parole Ok Te lo dirò io Adesso devi ascoltare Quello che ti dico Come se fosse la Bibbia Sì Quindi Fammi il favore Vedi Sono andati da soli E adesso moriranno Moriranno come Due scimmie In un laboratorio Minchia Sono troppo lontani Hai capito? Donna Quanto tempo non bagni qualcuno? No Porco due È a tempo Te l'ho detto Ancora Ratti Ma È Alzheimer Il tuo Omar Dove scappi? Vengo io a salvarti Reng Troppo tardi Te vado ad ammazzare Vabbè ma loro dove sono i nemici? Fuori Sono qui No Omar 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 Sam Non avvicinatevi a Omar Omar Do che un pomino a salvare Anzi no Troppo tardi Ragazzi mi avete lasciato lontanissimo Hi Starboy Nation Welcome Ti è giunto Dice Madonna Stronza Veramente Chi mi ha giunto? Starboy Nation Welcome To the Livestream Of Calamaco Forever Siamo stati bravi Come la Prostata Di un Sessantenne Quelli siamo stati Allora Non mi ha giunto nessuno Dove mi ha giunto? Parala 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 No Chi c'è adesso? Ciao Omar Si ripete Si ripetono con i chi vuole C'è Frank Ah Frank sta giocando adesso? Ha giocato in questa Allora Non c'è più Questo sta aspettando Poverino A me fa pena ogni volta Allora Allora Essere giocato Duca E' Omar No? Quindi c'è Bot Non so se Pandoro Non so se Franci Non so se Ratti Questo qua io voglio Questo è giapponese Ah vuol vedere Voilà Solo per te Destroyer Così Non ci destroy Più I pall Guarda Guarda gli oggetti Guarda Guarda che Guarda che fantasia Ma non c'era Spendere i soldi Dai guarda Spendi tutti i soldi Di tuo padre E mandare i romini Finchia C'è un famiglia Che stiamo piangendo In questo momento No no Te ho Omar No te ho Omar Ciao Guarda Mano Già di votare A posto Destroyer Può giocare o no? E chi? Ci credi Ma nessuno Mi ha aggiunto Che sto dicendo Praticamente Jess Ahah Non dà una colpa a Jess Figurati che te lo dico Mi piace troppo Perchè non lo sai Star by Star by We haven't got any friend request Prego Ratti Ora ti faccio meme contro Fai vai Pure Allora Vedi adesso va contro te Devi dire tu Adesso puoi dirlo pure a voce Frank Non devi neanche scriverlo Frank veramente Dai non fare il timido Non possiamo fare il screenshot Rimane solo il live Ho detto Ho detto che Hai leccato troppo la cartuccia E adesso il culo come una bertuccia Ho detto che do Ti hai leccato una bra cartuccia Tu per farsi che Facessi effetto Te la sei mangiata Non lo so Non lo so E fu così Come Ratti Pasò di nuovo La notte Senza dormire Cosa Cosa Vole detto Frank Ah ma Ragazzi Siamo con il pro E' bravo veramente Comunque E ragazzi Questo rumore che farò adesso Serve solo per coprire la scoreggia Mi schifo con tutta la mia anima Oh che bello E' bellino Ratti Quando fa così Però Ne vorrei avere uno in casa E' giusto perché Così a me lo moriamo prima Censure per scorreggere Si Produzione delle oidi Orecchie O rumori Si Despacito Despacito Faccio le scorreggie Facendo rumore Così non si sentono Despacito 2 Cantavi meglio Ahi Guarda il bug Oh mio dio Ma di cosa ha fatto questo tetto? Questo tetto è di marzapane Ma mi pare che c'è tutta una cosa lì Ovviamente Dai dai posso lanciargli i proiettili a mano Ovviamente Ovviamente Lanciargli i proiettili di io Ah perché non ti potevamo ammazzare Con quella cosa Vuoi prendere la pistola Pughe Guarda il bug Guarda il bug Guarda come scappa Guarda il bug Guarda il bug Guarda il ragazzo Prende quel nome Guarda Questa c'è la colpidata No dobbiamo rifarla Dai Vai vai Luca muoviti per favore Non siamo qui per pettinare le Barbie Guardalo E' troppo frocio Mamma mia Mamma mia Guarda guarda l'altro Senza palle Che si tuffa per terra Un uomo Quella cosa lì Non potrebbe farla Se non ha veramente Le palle sulla schiena Cioè se tu avessi Le palle sulla schiena Non ci resti a farla Con il movimento Guarda ti giuro Io ti comprerei E mi comprerei Le motte Cioè mettere Le tue reazioni No tu ti comprerei Perché ormai Sei diventato tossico Di Fortnite Ormai Fai le motte Fai le motte Sei cambiato Da quando giochi In Fortnite Oh mio Dio Sei troppo bello Troppo bello Dai così non mi lamentate Che non ci sono armi No No Magazzino 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 Mi sono stancato Bene vado Ciao Dove vai Ti volevo dire Cosa ha detto Frank No ti mando lo screenshot Dai dai Stasera ti mando lo screenshot In serio Così almeno puoi Sì Ma tanto Dovevi sapere Che praticamente Con l'account Non era mio Ma era Un falso Alla fine Era bloccato Lo sconfino Guarda io ti dico solo Ai Ma che cazzo è sto tetto Ah Lagami anche Eh Perché almeno c'è un po' di Un po' di azione Azione Dice non lo voglio più sapere Ho capito Ha capito Ah non so Porca butenaz Madonna Adesso do una testata Sul controller Perché lagga In questa merda Di maniera Solo 12.000 euro Al Al Secondo Guadagnate Perché non riuscite A comprare Una merda Di server Una merda Di server No doc Doc si ripara Un'altra volta Però è l'ultima Però Ci buttiamo In un buco buono Sì Ci buttiamo All'ospedale Psichiatrico Ci dobbiamo buttare A un magazzino Perché tanto Muogli E non ti buco E quell'attimo E da buia Confiamo Confiamo Oh Ragazzi Comunque Non lo vuoi più sapere Sei sicuro Quindi cancello Lo screenshot Lo posso cancellare Lo screenshot Lo vuoi vedere No Non sono incazzato E che queste Merde Della Epic Epic Merde La chiamerei io Insieme a Shit Night Guadagnano Solo un milione Di euro Al giorno Solo un milione Di euro Al giorno Grazie alle vostre Cazzo di skin Balletti da frocio E tutte queste cose E tutte queste cose Senza offendere froci Sia ovvio Cioè una generalizzazione Per dire che Non può essere un uomo Gli ho offesi Effettivamente In questa maniera Non ho scusanti Ho appena offeso un frocio Sono omofobico Che uomo di merda Che sono Omofobico Ma non esiste Chiaro che esiste Stai zitta Cioè Ci buttiamo Ci buttiamo Magazzino Ciao Duca Ciao Duca Buonanotte Te guarisci presto Questo spara con dei proiettili Che sono grossi Come un coso di roccosifredi Più o meno Hai capito? E toglie venti Toglie venti Toglie venti Hai capito? Quella cosa Era il vero E chi li sta sparando? Boh Ha la skin più nuova Veramente Eh Qui vince Chi c'ha la skin più nuova Ai Vedi io sapevo Che non si chiamava così Omofobo No Ti ho detto altra cosa È etomofobico Cioè in live Omofobo Omofobo Mi sta guardando con una faccia Ma che stai dicendo? Omofobico Ho detto omofobico Quindi dai Chi vuol giocare Ciccio gamer Abbiamo detto Joker Ninja Dai ratti Dai ratti Non c'è nessuno Che gioca Posso giocare Vedi Basta che mi chiedi Killer45 Eh killer Bro Mi devi invitare Tra gli amici Devi fare la pirouette Devi farmi vedere Tutte le skin che hai Se non hai Se non hai Se non hai shoppato più di 300 euro Con noi non giochi Sappino Questa è la legge Tutti vogliono giocare Ma nessuno Mia tra gli amici Perciò Cosa faccio Vado a casa loro Invitatemi a casa vostra Ragazzi Giocheremo insieme Il signor Capitano Bene Ma poi killer Chi cazzo è Killer Aggiungimi Dai Aggiungimi 3 euro Anche su Streamlab Per favore Per Perché logicamente Noi Siamo una community Di usurai E se vuoi giocare Con noi Devi cacciare Gli soldi Ah Ninfa Ninfa No What? Ninfa 22 Ma 22 L'età non è No scusa E tra gli amici Ancora Sti giorni L'hai visto Mi ha tolto lei Lui Loro Io ancora non so Hai leccato la cartuccia? Lui Lui Quindi io invito Chi Non sta Giocando Invinito tutto il mondo Chi non sta giocando Io gli do l'opportunità Di giocare con uno Degli youtuber Più importanti Del pianeta Youtube Sai chi è? Frank Che vuoi? Ti san Have a good day Oh thank you You're a good friend Please Come on Ma perché c'è Frank Che vuoi? Che vuoi? Un po' di caffè Ma sì Ma il caffè l'hai fatto? Sì Magari Ah Qual è il caffè? Questo? Ci manca qualcuno Già O sardo Sì Tampo finiamo Quindi e quindi non hai legato la cartuccia si è legato il dito ma hai guardato la telecamera mentre hai caldito ma come cazzo è possibile che ci manca una persona ti prego ragazzi manca una persona per giocare terribile vabbè non l'avrei detto mai questo però cosa? potrebbe mancare una persona per giocare no stanno giocando tutti a Castiglioro è quello il problema potrei? devo ancora accendere la Switch Milo potrei ma non posso o che? io non giocare 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 male no stanno giocando la Switch Milo no stanno giocando la Switch Milo per comprare il cappellino per comprare il cappellino e 32 euro è di Versace per quello che ho visto per quello che ho visto eh ma sai che cos'è Milo eh Calamaco pensavo fosse Milo che l'ho scritto sai sì per un secondo almeno tutti i gli avatar monofromatici che per uno youtuber cieco come me capito la differenza è quasi impossibile il problema è Calamaco che la gente posso fare un rottino o no? fatto la gente gioca solo più a Fortnite a me anche se non diverto Ratti Ratti vuole sapere cosa ha detto Frank l'altra sera dai lo mando sto screenshot Ratti ripagato che quando Ratti dicevi vuole andare a dormire non è vero mai non è una novità oh mio Dio Eleonora è ancora qui Eleonora devi scusarla Jessica ma Eleonora ti spiego Jessica è tedesca e come sai i tedeschi bevono birra viuste le krauti e ruttano da fare schifo hai capito sta stronza si è impossessata della mia voce e e tenta di imitare io te lo giuro Eleonora non sono così io devo dire due cose mi stupisce e la seconda l'unica cosa che mi piace sono i krauti tutto il resto mi sembrano stronzate ma allora Ruttia scorreggi minchia peggio di mio nonno partiamo già con questo presupposto no non lo faccio più minchia non lo faccio più ma a volte sento di fare la sveglia invece sei tu che scorreggi minchia lo faccio per te lo faccio per me lo faccio per me ah è giusto Eleonora comunque non sono stato io continua no ma adesso devo dire una cosa proprio tedesca sapevate che è scientificamente dimostrato che scorreggiare sotto la coperta è buono per la salute chiaro no perché no è vero eh contengono una cosa che recuperano le cellule del corpo anche a scorreggiare tutto quanto potete scorreggiare in una mano e sentire l'odore cioè l'avevamo fatto tutti tutti chi non lo fa cioè chi non scorreggia sulla mano a conchiglia mi lasci fare un sondaggio sul canale come Iurino il sondaggio chi scorreggia a mano aperta si ma non mi devo sposare e quindi dicelo dicelo oh mio dio dicelo Ratti Ratti è mazionata Hi Ethan Appena ruttato non è ruttato guarda quello che fanno i bebè i neonati si cosa cazzo fanno non è ruttano no non ruttano e non aprono la bocca è come i neonati non cagano fanno la cacchina no giusto tu sei uguale a un neonato minchia qua passano peggio degli avvoltoi si sono mangiati già tutte io non c'è più un cazzo anche le parolacce che senti l'onora grazie a tutti